Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò del castello Estense di Ferrara. Iniziamo subito. La storia. Il castello sorse nel 1385 come difesa della famiglia Estel. Niccolò II d'Este lo fece costruire perché il popolo si era rivoltato contro i Lugli. I lavori iniziarono il 29 di settembre, giorno di San Michele, diretti da Bartolino da Novara. Torre dei Leoni. Il castello venne costruito vicino ad una torre che venne inglobata appunto nel castello. Era la Torre dei Leoni. Durante il regno di Ercole I ha subito diversi interventi regolativi. Qui potete vedere una sala. Ci furono anche lavori di ampliamento sia del castello sia delle mura della cittadina che cambiano l'assetto urbano. Guardate qui possiamo vedere il castello di Ferrara. Qui il canale che faceva arrivare l'acqua nel fossato del castello. Qui invece possiamo vedere il fossato riempito nell'acqua e del Po. E qui il Po e le mura. Le diverse porte. Terremoto e ricostruzione. Nel 1534 Ercole II fece diventare il castello un vero e proprio palazzo principesco. Nel 1570 però un violento terremoto colpì la città e danneggiò il castello. Alfonso II chiamò architetti e pittori per far ricostruire il castello. Lo Stato Pontificio. Nel 1597 Alfonso II morì senza eredi. E quindi il castello passò sotto il controllo dello Stato Pontificio. Del Papa. Per chi non lo sapesse. Lo Stato Pontificio disperse le opere d'arte del castello. Le dispersero. Napoleone e il Regno d'Italia. Nel 1796 il castello fu occupato da Napoleone. Nel 1813 fu invece conquistato dagli austriaci. Nel 1874 fu annessa invece al Regno d'Italia. Le prigioni. Le prigioni sorgono sotto il livello dell'acqua del fossato sotto la Torre dei Leoni. Nelle prigioni la famiglia Este ospito famosi criminali. Adesso qui abbiamo una storia. Si narra che il re Niccolò III si sposò. Poi si risposò con una donna giovane rispetto a lui. Aveva già un figlio Ugo. La madrina e Ugo si fidanzarono. Ma Niccolò III lo scoprì e gli faceva ammazzare. Quindi praticamente il figlio e la madrina del figlio si fidanzarono e lui li faceva ammazzare. Bene ragazzi, questa è tutta e alla prossima!